Grazie per l'invito, compagni e compagni, per me è abbastanza facile adesso, avete sentito Antonio, avete sentito il MAZ, insomma il mio compito è molto facilitato. Volevo riprendere questo ragionamento che faceva Fausto Bertinotti nel suo intervento purtroppo molto disturbato, in cui diceva che questa nuova guerra, questa guerra nel russo-ucraina in qualche modo slittava la questione mediterranea a una cosa politicamente minore. Penso che abbia al tempo stesso ragione e forse invece dall'altra parte abbiamo sentito ciò che ci diceva Antonio Mazzeo, non del tutto. Io penso che la guerra tra la Russia e l'Ucraina stia funzionando culturalmente e come costruzione della narrazione come una colossale lavatrice, con cui l'Occidente sta ripulendo teoricamente verso l'opinione pubblica i suoi panni sporchi, che sono i prodotti di trent'anni di guerra mondiale a pezzi, mondiale a pezzi. Questa è un'operazione molto insidiosa perché richiede la rimozione dei luoghi dove questa guerra mondiale a pezzi si è esercitata, ovvero il Mediterraneo, come diceva Antonio, il Mediterraneo allargato, che arriva al Sahel, arriva al Corno d'Africa, arriva pressoché al Pakistan, sicuramente all'Iraq e che ha visto l'Occidente fare strame, distruggere il diritto internazionale, a cominciare da quello che noi di un Ponte Per è la nostra guerra di fondazione, sostanzialmente chiamiamolo spartiacque, quello che a un certo punto cambia i destini del mondo, non si va più verso i dividenti di pace dopo la caduta del muro di Berlino e alla Casa Comune Europea, si va alla ricostruzione del mondo unipolare, alla pianificazione di nuove guerre, la prima guerra del golf. Se vi ricordate, l'analogia terminologica è la prima guerra del golf venne chiamata operazione di polizia internazionale, internazionale. Cioè la distruzione, l'anniglamento di un intero paese raso al suolo, operazione di polizia internazionale. Oggi Putin recupera tutto questo ciarpanno ideologico in cui si è giustificato, riabilitato, rilegittimato la guerra e la utilizza per le guerre sue. Operazione militare speciale a me ricorda veramente tantissimo l'operazione di polizia internazionale. Quasi si potrebbero sovrapporre a questa cosa. E noi dobbiamo rispondere culturalmente a questo tentativo, questo slittamento intanto di una grande amnesia. Sembra che questa guerra sia nata dal niente, mentre è figlia appunto di un mondo con cui si è pianificata l'insicurezza mondiale. E tutte le implicazioni che abbiamo davanti, tra le tante rimozioni che questa guerra sta portando, c'è quella ambientale, altro che riconversione ecologica, si ritorna al fossile, si ritorna alla guerra che già era pianificata in questi anni nel Mediterraneo, perché la guerra di Libia è una guerra per l'energia, la guerra intorno a Cipro in cui le navi militari turche inseguivano le navi da ricerca dell'Emi e con incidenti che in altri periodi avrebbe portato direttamente a un conflitto militare. Il ruolo che Israele sta avendo nei gasdotti e via dicendo, tutta questa partita è la partita che ci dice che siamo seduti su una polveriera e che sia necessario in qualche modo di smetterla. Io penso che abbiamo un nemico. Il nemico si chiama nazionalismo o se volete federalismo escludente, perché le due cose non sono in contrapposizione. I nazionalismi sono sempre stati la benzina con cui si sono fatte le guerre, almeno dalla prima guerra mondiale in poi, e oggi sono impetuose l'esaltazione dell'Ucraina, non perché l'Ucraina non abbia diritto a difendersi in base all'articolo 51 della Costituzione e qualsiasi popolo ha diritto alla difesa di fronte a un'aggressione, ma l'esaltazione dei nazionalismi, i portatori di civiltà contro la barbarie da quell'altra parte sono elementi devastanti e noi abbiamo bisogno di far lezione dell'esperienza dei nostri compagni kurdi nell'Orojava, che è uno dei territori in cui un ponte per lavora da anni, perché questa cosa di utilizzare il... intanto, prima poi dirò quest'altra cosa. Il confederalismo includente che ci propongono i compagni kurdi può essere uno degli argomenti forti con cui ricostruiamo un'altra idea di Europa e di relazioni col Mediterraneo? Perché si deve escludere, costruire nuove barriere? Questa cosa, io sono stato in Ucraina con la prima carovana della pace, c'era anche Antonio, e strideva questa cosa. Quando siamo entrati con queste ragazze, queste donne ucraine che l'abbiamo portato via dal conflitto, quando siamo entrati in Italia immediatamente ci ha fermato la polizia e ho pensato male e poi ci ha portato nell'area di posteggio di un autogrill in cui siamo stati rifocellati, accolti, immediatamente gli si è dato un documento provvisorio, cioè le cose che si dovrebbero fare verso tutti i rifugiati di guerra. E ho pensato che più in là da dove eravamo passati, un po' più a oriente, alla stessa frontiera polacca, c'erano i nostri fratelli siriani, afghani, iracheni, kurdi, che venivano respinti e si stava ancora erigendo questo terribile muro. Allora, noi dobbiamo avere una proposta, perché il mezzogiorno deve essere il luogo delle contaminazioni, in cui l'abbattimento dei muri e la costruzione dei punti diventa, dunque questa idea del confederalismo includente, deve essere il nostro motore, deve essere il punto politico qualificante di un'altra idea di costruzione del futuro. E poi, sentiremo poi Yusuf, ovviamente, tra le tante cose che non sono state risolte in questi decenni, la questione delle questioni è una questione palestinese. E cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che i diritti dei popoli vengano utilizzati come scambio. Lo diceva Musacchio, che ricordava Melilla, quell'uccisione da parte dell'esercito marocchino di più di trenta migranti, forse anche di più. E lì è stato fatto uno scambio molto chiaro tra il governo spagnolo e il governo del Marocco, il regno del Marocco, per cui il governo di Spagna ha fatto cadere ogni critica, ogni riserva, rispetto alla questione del polisario, accettando di fatti la cancellazione del referendum che veniva ineternamente procrastinato dalle Nazioni Unite, per cui non si è mai tenuto, e i diritti del popolo polisario. E il Marocco, in cambio, si è trasformato in gerdarme per conto dell'Occidente. Così viene fatto per i curdi, che sono stati utilizzati nella lotta contro Daesh, contro l'Isis, e abbandonati doppiamente. Prima, davanti a Erdogan, con l'invasione al nord-est della Siria, che è gli attacchi sistematici che stiamo registrando, anche noi come un ponte perché lavoriamo nelle zone in cui si è dato pure un premio nobile a una donna yezida, per ricordare le atrocità fatte da Daesh nei confronti di quei popoli, e invece adesso stanno bombardando sistematicamente il Sinjar, la Turchia, un paese della Nato, e non si muove foglia. Devo dire che è impressionante questo scambio fatto tra svedesi, finlandesi ed Erdogan sulla pelle del popolo kurdo. Il popolo palestinese è quello che ha subito in questi anni il maggior numero di scambio sull'altare di Israele, sull'altare delle compatibilità degli interessi occidentali, e anche su questo dovremo in qualche modo tornare a proporre ai nostri fratelli e compagni palestinesi di tornare insieme a avere questa idea di un mediteriano includente, non escludente, come dicevo prima, perché questa deve essere, noi dobbiamo dare una chance al futuro, perché altrimenti pianifichiamo solo morte e distruzione e non andremo da molte parti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.